Il lupo seretematoso sistemico, l'ES, è una malattia cronica autoimmune infiammatoria che interessa vari distretti del corpo. È una malattia rara che colpisce le donne con un rapporto di 9 ad 1 rispetto agli uomini. E dal 2013 è disponibile nel nostro paese il Belimumab, primo e unico anticorpo monoclonale specifico per il lupo seretematoso sistemico, che finora si somministrava con una infusione endovenosa lenta da fare ogni due e poi ogni quattro settimane, recandosi ovviamente in ospedale. Ora invece ecco l'innovazione. Il farmaco è contenuto in una penna preriempita, gestibile facilmente a casa propria. Professore, ma cos'è questo lupo seretematoso sistemico? È una malattia reumatica autoimmune, quindi caratterizzata dalla produzione e dalla presenza in circolo di numerosi autoanticorpi, cioè anticorpi che anziché essere protettivi, quindi rivolti verso virus e batteri, sono rivolti verso i tessuti propri dell'organismo. E quelli più importanti, sia dal punto di vista patogenetico ma anche dal punto di vista diagnostico, sono gli anticorpi, antinucleo. Questi autoanticorpi, attraverso meccanismi diversi e solo in parte conosciuti, possono dare infiammazione a vari tessuti e apparati e dopo l'infiammazione quindi anche a un danno permanente. Tra i tessuti e gli organi più frequentemente interessati abbiamo la cute, le articolazioni, il rene, il sistema nervo centrale, le cellule del sangue e i foglietti, la pleura e il pericardio, quindi i due foglietti che ricoprono il cuore e i polmoni. La prognosi della malattia un tempo era una prognosi molto grave, attualmente è molto migliorata, ovviamente però la prognosi a lungo termine rimane ancora una prognosi non buonissima, nel senso che l'aspettativa di vita di questi pazienti è comunque sempre minore rispetto a quella della popolazione normale, contando che sono pazienti mediamente giovani, questa è una cosa importante, e si è visto che questo impatto sulla prognosi a lungo termine dipende soprattutto dalle complicanze della terapia standard, della terapia tradizionale, quindi l'uso del cortisone, gli immunosopressori e o dalle complicanze della malattia. Ecco, quando si è cominciato a capire che era questa patologia, perché per esempio oggi è intervenuta la paziente che ha detto che lei ha fatto il giro di medici eccetera, ma nessuno comprendeva cosa fosse. La malattia è conosciuta da tantissimo tempo, certamente diciamo che è diventata, è diventata più semplice la diagnosi di questa malattia a partire fondamentalmente dagli anni 80, da quando sono stati, quando diciamo così si è diffuso l'impiego del dosaggio degli anticorpi antinucleo nei laboratori anche periferici e quindi in cui la diagnosi da questo punto di vista è risultata più semplice, perché quello che è stato chiaramente dimostrato, questo non negli anni 80 ma successivamente, è che questi autoanticorpi compaiono prima delle manifestazioni cliniche, quindi in sostanza una volta che uno ha un sospetto di questa malattia ma viene può far dosare gli anticorpi antinucleo, se questi anticorpi antinucleo sono positivi questa è una grande indicazione per quanto riguarda appunto il fatto che uno possa avere il lupus eritematoso sistemico. Da questo punto di vista diciamo che anche il medico di medicina generale deve essere coinvolto in questo processo diagnostico, c'è un ruolo importante perché probabilmente è proprio il medico di medicina generale che può cogliere quelli che sono i primi sintomi, le prime alterazioni che possono poi portare il paziente al dosaggio degli anticorpi antinucleo. Questa patologia colpisce più le donne, per quanto riguarda le gravidanze? Colpisce soprattutto le donne durante l'epoca della maturità sessuale e perché certamente c'è un coinvolgimento degli ormoni sessuali femminili, in particolare gli estrogeni, la gravidanza quindi diciamo così che è una situazione, una condizione fisiologica in cui gli estrogeni aumentano fino a 100 volte rispetto ai livelli normali, è potenzialmente una condizione fisiologica che può far scatenare la malattia o può peggiorarla. Certamente al giorno d'oggi quello che noi facciamo è quello di programmare la gravidanza nel momento in cui la malattia è in remissione o comunque è ben controllata e soprattutto l'altro aspetto importante è quello che conosciamo molto meglio, quello che è l'effetto ad esempio tossico dei farmaci e quindi utilizziamo in queste pazienti solo i farmaci che non sono tossici per il feto e quindi questo è il fatto di programmare la gravidanza nel momento più opportuno e il fatto di utilizzare dei farmaci comunque durante la gravidanza che non danneggino il bambino è il grande successo che ha accompagnato questo approccio alla gravidanza in queste pazienti. Il LES è nel registro delle malattie rare? No, il lupus non è nel registro delle malattie rare anche se io credo che dovrebbe esserci dovrebbe esserci perché secondo me la prevalenza della malattia è diciamo così inferiore a 1-2 mila che è un po' il cut off che viene utilizzato per la definizione di malattia rara a livello della comunità europea. Il lupus è secondo me ha una prevalenza più bassa, cioè una prevalenza che è tra gli 1-2 mila e 1-5 mila quindi più vicino a 1-5 mila però io credo che dovrebbe essere considerata tra le malattie rare. E adesso qualcosa su questa svolta nella terapia che è sempre più verso il paziente perché così è facilitato? Sì, allora la svolta prima di tutto è stata l'introduzione di questo farmaco biotecnologico nel lupus noi avevamo vissuto la storia dell'artrite reumatoide dove l'avvento di questi farmaci biotecnologici ha decisamente rivoluzionato quella che era la storia terapeutica della malattia quindi la storia naturale della malattia. Quindi anche nel lupus adesso finalmente abbiamo questo nuovo farmaco biotecnologico l'impatto che ha nella storia naturale del lupus probabilmente non è lo stesso degli anti-TNF nel trite reumatoide probabilmente perché il lupus è una malattia molto più complessa però quello che è l'esperienza clinica anche poi tradotta negli studi quelli che sono stati condotti anche a livello della pratica clinica dimostra come questo farmaco effettivamente è molto utile in questi pazienti per tutte quelle cose che abbiamo detto prima cioè perché riduce l'attività di malattia riduce le riacotizzazioni, riduce l'assunzione di cortisone e rallenta quella che è l'accumulo di danno irreversibile. L'impiego poi, l'avvento del farmaco sottocute è un ulteriore vantaggio perché chiaramente estende anche l'impiego magari a pazienti che non possono recarsi mensilmente presso un ospedale per fare l'infusione semplifica la vita sia del paziente ma anche dei medici, dei centri appunto di reumatologici dove ovviamente la somministrazione per via endovenosa comporta un sovraccarico sia per quanto riguarda il personale sia per quanto riguarda la struttura che per quanto riguarda un consumo di risorse maggiore. Sappiamo la moltitudine di patologie purtroppo ma è importante che la ricerca lavori e nel caso del lupus ritematoso veramente c'è stata una ricerca straordinaria perché a questo punto si è alleggerita la terapia, la cura quindi l'approccio con proprio la terapia per far migliorare la qualità di vita dei pazienti. Sì, noi siamo orgogliosi di aver prodotto un farmaco che ha già fatto la differenza per i pazienti in termini di lupus che sono già operati da tante medicine e da tanta sofferenza. L'endovena che era la formulazione precedente li ha aiutati molto però l'endovena aveva il peso diciamo così sia per il paziente che per la struttura ospedaliera di dover organizzare un'endovena di un'ora che portava alla perdita di una giornata intera e per il paziente e per la struttura. Con il sottocute finalmente possiamo dire che tutto questo peso viene annullato il paziente è libero di fare la somministrazione a casa e di gestire in proprio la somministrazione. Ovviamente non lo si lascia solo perché le prime somministrazioni vengono istruite con il medico quindi il paziente saprà esattamente come farla, dove farla e quando farla. Quindi siamo veramente orgogliosi di poter dire che finalmente il paziente è al centro dei nostri obiettivi. Quindi innanzitutto con una maggior disponibilità perché il paziente è a casa insomma non si deve spendere, anche la struttura sanitaria non deve spendere ma per ogni paziente viene calcolata la quantità di farmaco. Questo valeva per l'endovena dove il dosaggio era per chilo, per il sottocute il dosaggio è fisso del sesto settimanale, quindi è già impostata la penna che è uno strumento usa e getta, si fa la somministrazione e si butta. Quindi non c'è bisogno né per il paziente né tantomeno per la struttura di perdere tempo per calcolare dosi, dosaggi e compagnia cantante. Quindi anche questo aiuterà molto nella somministrazione, in questo caso direi autosomministrazione. Per quanto tempo è stata provata? Il farmaco è stato sviluppato ed è stato testato su 800 pazienti in tutto il mondo ed ha seguito uno sviluppo come un farmaco normale, non ci siamo accontentati di dire vabbè la molecola è la stessa, facciamo solo un test di sicurezza, ma ha seguito tutte le fasi di sviluppo di un farmaco, quindi fase 1, fase 2 e fase 3 e al momento è stato lanciato in tutta Europa e negli Stati Uniti, seguiranno poi i mercati cosiddetti emergenti che hanno un ritardo tecnico nelle loro operatività interne. Per cui contiamo che nel giro di poco tempo questo farmaco possa affiancare l'endovena perché non sono uno esclusivo dell'altro, alcuni pazienti continueranno nella formulazione endovenosa, altri inizieranno o passeranno alla formulazione sottocutanea. Beh insomma si alleggerita anche la vita del paziente perché non deve essere più portato in ospedale e anche perché è più facile adesso insomma star vicino al paziente. Sì il paziente viene ingaggiato sulla propria terapia ed è lui stesso responsabile della somministrazione e delle modalità in cui viene fatta che seguono alcune regole di base di igiene e di sicurezza ma lui deciderà se quando farla, ovviamente la cadenza è settimanale quindi non potrà scegliere il giorno ma se non altro il momento più utile nella sua giornata lavorativa o meno quando fare la somministrazione. Quindi siamo veramente contenti di questo risultato. Ecco questo farmaco che già era in uso ma che adesso assolutamente ha rivoluzionato questa terapia è a carico del sistema sanitario nazionale? Sì completamente a carico del sistema sanitario nazionale con l'indicazione per alcuni tipi di pazienti cioè non tutti purtroppo i pazienti con lupus si potranno avvantaggiare di questa terapia che è la stessa diciamo limitazione prescrittiva che ha anche la formulazione endovenosa quindi non cambia nulla dal punto di vista comparto sanità o servizio sanitario nazionale comunque è rimborsato. Questa bella e gentile signora adesso ci parlerà del problema perché è un problema forse di una certa importanza di avere questa patologia. Lei oggi qui come paziente ci vuole raccontare che cos'è la sua giornata, come ha scoperto questa patologia e poi parleremo di cure. Nell'89 ho avuto la prima lesione su una fronte che ho cercato di nascondere con i capelli in modo che non si vedesse, poi ho avuto qualche episodio di febbriciatolo, un po' di dolori così però non mi sono preoccupata più di tanto, poi tanto il tempo passava e vedevo che però avevo una deformazione del viso e da lì mi sono un pochettino preoccupata nel senso che pensavo di avere un tumore della pelle, ma ho pensato al lupus perché giuro io non conoscevo questa malattia. Dopo 5-6 anni sono andata da un dermatologo e mi hanno diagnosticato una psoriasi, cioè tutto l'opposto di quello che io avevo, quindi mi sono curata sotto i raggi del sole, invece nei malati di lupus non possiamo prendere raggi ultravioletti e la cosa è peggiorata fino a che poi ero diventata veramente, come posso dire, non soltanto a livello fisico di estetico, ecco, ma anche a livello fisico cominciavo ad avere alcuni dolori un po' particolari e quindi sono andata a finire in centro Milano e mi hanno diagnosticato il lupus, il lupus che allora non sapevo che cos'era e questa forma rara di lupus comunque, una paniculite lupica che non prende a tutti e che praticamente è quella che mi ha cambiato il mio modo di vivere, in poche parole, perché avere il lupus, vabbè, ce l'abbiamo in tanti, è vero che è chiamata la malattia delle volti perché ognuno l'ha diverso l'uno dall'altro, però avere una paniculite lupica non ti prende soltanto i lavori e i dolori fisici, ma ti prende quelli psicologici perché cambia il tuo aspetto a fisico, non ti piace più, cominci a prendere anche depressione, poi vabbè io ce l'ho fatta, ce l'ho fatta perché l'ho superata e oggi devo dire grazie anche a questo farmaco comunque che da quattro anni io prendo e con me ha funzionato comunque, ha funzionato a livello articolare per i dolori, ha funzionato a livello di pelle e diciamo ha funzionato anche a livello mentale perché assorbendo più di 50 milligrammi di cortisone al giorno con gli altri farmaci così non è facile, non dormi, sei nervosa, sei alterata, hai sempre dei problemi così, quindi con questo farmaco ho ridotto questo cortisone e io sono anche una persona un pochettino più tranquilla. iscriviti al canale Grazie a tutti.